Vai! Dico Daltella, CrossFit Maggirata, V2-1, Qualifiche, Follsiris, Categoria Experience Allora, non tocca il mozzo prima del cronometro, eh? Prima dello zero Zero La dumbbell la facciamo di dopo Non necessario corro, eh, Fede? Si sei, dieci secondi Tre, due, uno, vai! Ivo. La gefährdese diapaphora Bambino Factos Sabant Bambino Grazie a tutti 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 1, mi senti bene 2, bravo Bravissimo 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10 Dove E dieci Vai Squat, squat, subito, 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 subito Due Tre Quattro Cinco Siete Siete Nove Siete Siete Nove 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 Siete Quindici Sedici Siete Diciotto Diciannove Venti Distendi, giù subito, 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 vai Dai, 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 dai Inizieremo subito, eh Vai, 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 vai Come prima, eh, dai E la P umm, g grazie con bene, dai bravo, bravissimo aggancialo vai uno, bravissimo bravo due tre quattro, grande Fede dai cinque sei sette dai, così vai Fede otto alla decima subito al petto nove vai subito al petto dopo e dieci bravo blocca e parti vai uno, bravissimo due tre quattro cinque vai vai Fede dai diciannove vai ok, bravo subito sul row dai subito comincia su dai dai che stai a bomba dai Fede vai 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 parti 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 hai finito eh due cinquanta adesso dai bravo bravo, bravo Fede dai bravo Fede dai bravo Fede è buono così eh buono ma il bambino Fede dai vedo che stendi e parte stendi e parte stendi e parte eh Fede stai facendo un buone vai aggancia vai scendi bravissimo dai che hai finito dai che hai finito uno bravo dai due tre quattro bravissimo dai vai cinque dai non molla eh sei sette vai Fede otto madonna buono dai nove l'ultimo e dieci portalo al petto spara tutto quello che hai dai 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 forza uno due tre bravissimo quattro cinque sei dai sette dai 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 otto nove dai dieci dai che ne rimaste dieci dai che sei sotto undici forza undici dodici tredici quattordici quindici sedici bravo no 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 ostinia marcatui Grazie a tutti Ciao ragazzi, buona domenica.